devo essere sincero mi trovavo un po' in bilico cioè ne parlo di questa canzone di Mirchetto mentre la sentivo in sottofondo un po' distratto ho detto vabbè mi sembra una mezza commercialata magari no poi mi sono messo a fare altre cose mi è ripartita sulla testa già ho detto ok sicuramente se è una hit è veramente una che rimane poi magari chissà se fare i numeri chi se ne frega ho detto fammi andare a rivedere andiamo sul testo e ovviamente sì bisogna parlarne perché ragazzi Mirchetto Orcomi è uno che anche quando fa queste strofette brevi a maggior ragione va analizzato che lui dice ok io devo fare la canzone ci metto Elodie al ritornello che comunque me la fa pompare il ritornello è bestiale cioè nel senso proprio ti entra in testa con una facilità a tratti disumana e via e te lo senti te lo risenti te lo cucchi te lo ricucchi ti dà un gusto nero e poi dici ok allora Orcomi che cosa avrà detto per dare valore al pezzo ecco cosa ha detto quando la notte mi scappò dalle mani già che uno parte così non sto dicendo foscolo sto dicendo ma una canzone pop può partire così evidentemente sì cioè Orcomi non è quello che ha fatto successo e poi si è venduto Orcomi è quello che ha fatto successo perché è quello che è e è andato avanti e anche il suo disco che inizialmente criticavo il fatto dei tanti feat no ma ha senso ha senso era aveva era un concept album almeno lui l'ha reso concept album nel senso del taxi che porta e ognuno ha portato qualcosa al disco e cioè ragazzi giustamente dopo che ha fatto diversi dischi da solo ha fatto un disco pieno di featuring ma non era una commercialata era un artista scusate che in grado di mettersi da parte per lasciare agli altri che in qualche modo possano arricchire quel qualcosa che lui aveva da dire è un po' diverso dal faccio il featuring perché mi conviene quindi una canzone può iniziare una canzone pop che deve passare per le radio quando la notte mi scappò dalle mani mi sembra un modo originale di dire di esprimere questo concetto ma tu mi tieni forte quanto è bello quando il tempo quando il tempo quando la vita quando tutto scappa via ma c'è qualcuno che ci ama e ci tiene forti e ci ricorda dove siamo cosa siamo e ci valorizza volo abbandonato nell'aria per sfuggirti ancora perché l'amore ci porta a fuggire un po' perché così restiamo amati amabili un po' perché sentiamo di non meritarlo nessuna fine perché siamo eterni perché quell'attimo lì quello in cui si ama quel momento quel ricordo quella roba lì diventa eternità è quello il vero per sempre soprattutto nell'epoca di oggi in cui non si crede più al settembre c'è qualcosa di te che che dovresti sapere ah non di me non è l'egocentrismo c'è qualcosa di te che dovresti sapere per quello che io provo nei tuoi confronti tra l'altro c'è tu mi hai comunicato della roba io ti vedo per come non tu non riesci a vederti e quindi c'è qualcosa di te che dovresti sapere cioè questa è la grandezza di di mirchetto orcomi e questa è la grandezza che riesce a valorizzare immensamente se stesso valorizzando qualcun altro poi vabbè sai che ti cercherò in tutta milano quando si parla delle città le cose mi dà un po' fastidio si perde un po' perché poi milano è diventato un cliché però ci sta vive quella e la dice fa bene che ti stringerei forte la mano stringersi la mano no? nei locali alla moda che bel gesto stringersi la mano qualcosa che fanno gli innamorati e che comunque ha un suo valore di tenerezza che ridà anche all'infanzia nei locali alla moda anche sotto la coda del diavolo ecco perché la coda del diavolo perché questo amore io posso viverlo anche in un luogo talmente nascosto sotto la coda del diavolo nel culo del diavolo che modo elegante di dire il culo del diavolo anche sotto di lui sotto la coda del diavolo c'è l'amore ed è puro anche lì ragazzi questa quella che sembrava una canzonetta pop ha anche una vena veramente poetica interessante e poi c'è giustamente l'aspetto radiofonico e quindi solo con te io sospiro tutta la notte che poi anche qui solo con te io sospiro cioè anche usare la parola sospiro mi va bene non rispondiamo a nessuno tutta la notte vabbè ci sta ci sta nessuna fine perché siamo eterni in ritardo per l'ultima metro perché volevi rimanere all'ultimo secondo ad amarti fino a darti l'ultimo bacio a mezzanotte perché siamo fantasmi da qualche parte mentre ci pensiamo vicini commetterei un omicidio perché lì i pensieri sono grandi sono enormi esagerati esasperati fuori dalla realtà fuori da ogni logica per quanto ti amo ammazzerei poi col cazzo che ti vuoi fa vent'anni di galera per una che magari te la scordi il giorno dopo ma il poeta un poeta intendo la persona che sa lasciarsi al sentimento e che poi trascrive il poeta vive quel momento lo vive davvero e lo vive con un'intensità tale che sarebbe capace davvero di tutto persino di uccidere le nostre impronte sul vetro al confine tra un bacio e un incendio devo aggiungere qualcosa? Mirchetto Orcomi uno dei migliori cantautori italiani che ha fatto della sua penna e del suo saper sapersi raccontare senza strafare senza esagerare è sempre stato istintivo è sempre stato se stesso ed era quella la formula perché purtroppo ragazzi uno può forzare quanto vuole ma la verità è che i grandi successi i grandi artisti sono quelli che semplicemente ce la fanno perché sono e bisogna anche essere in grado di riconoscere ok io magari posso scrivere bella roba magari posso scrivere qualcosa anche meglio di Mirchetto Orcomi perché comunque adesso lui si deve approcciare a un mondo che è molto anche commerciabile e quindi di conseguenza anche lui ha cambiato l'approccio alla scrittura dall'inizio quindi uno può scrivere anche roba più forte più underground chi se ne frega ma questo significa giocare in serie A e scrivere per la serie A non è come scrivere al campetto capite cosa intendo dire ecco e Mirchetto Orcomi ce l'ha fatta ha giocato in serie A e per me sta roba qua è pop da Champions League per la serie A e per la serie A e per la serie A e per la serie A